Buona giornata amici, oggi è giovedì 5 agosto 2021, questa è la rassegna stampa di Fano TV, ci sono notizie molto molto interessanti questa mattina sui giornali, specialmente due, una riguarda lo sport, quell'altra la sanità, ma prima di leggere i giornali a partire dal resto del Carlino e poi il Corriere Adriatico, diamo un'occhiata al Santo del Giorno e al Meteo. Il Santo del Giorno non è un santo, è una ricorrenza, diciamo così, si parla della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. La Basilica di Santa Maria Maggiore è una delle quattro basiliche pontificali, diciamo così, della capitale. È stata fatta nel V secolo d.C. sul colle Esquilino, è stata realizzata da Papa Sisto III in memoria del concilio di Efeso, in cui la Madonna è stata proclamata Madre di Dio, quindi un avvenimento importante che poi è stato consolidato nel corso dei secoli. Vediamo ora il meteo. Dopo la pioggia, almeno nella provincia di Pesaro di questa notte, vediamo che il tempo sulla costa rimane ancora nuvoloso, c'è qualche scroscio di pioggia, nell'introterra migliora, ma dicono le previsioni che nel corso della giornata ci sarà un miglioramento. Ed ora diamo un'occhiata ai giornali, a partire dal resto del Carlino, la sintesi della prima pagina. Ma no, anzi, vediamo sul monitor Marco Giuliani del Lido 3. Marco, piacere di riconoscerti, sono Massimo Foghetti. Buongiorno, piacere a me. Ma vedo che il cielo è sereno stamattina, già si è rasserenato? Sì, già si è rasserenato, ha fatto un po' di pioggia stamattina verso l'Espace, ho in quarto, ma già è pulito, è stato un bellissimo arcobaleno stamattina e già la giornata sta migliorando e per me è proprio una bellissima giornata. Quindi diciamo così un po' di pioggia passeggera che ha rinfrescato l'aria, ma poi oggi sarà una giornata ugualmente estiva, una di quelle calde, vero? Sì, sì, nulla di che, sarà sempre caldo, anzi. Marco, senti, il Lido di Fano è sempre il salotto della città, secondo te? Sì, è una zona di Fano molto famosa sia per le spiagge, sia per i locali, sia per i ragazzi, che per tutti. Sì, è molto frequentata soprattutto dai giovani, ma ci sono immagino anche le famiglie, vero? Sì, sì, anche tantissime famiglie, soprattutto anche per gli hotel, che abbiamo anche davanti alla nostra spiaggia, che sono la storia, ma anche l'Elisabeth, che sono sempre nei dintorni, dove molte famiglie appunto vengono in vacanza, sia straniere che italiani. Domenica scorsa è stata fatta la cerimonia della consegna della bandiera blu da parte del delegato della FEA, al sindaco di Fano. A Lido ancora questo contrassegno manca, ma dopo i lavori ad Arzilla, al prossimo anno anche il Lido, credo, avrà la bandiera blu. Per te è un contrassegno importante? È importante sì, perché alla fine il mare è molto bello, anche qui da noi, degno della bandiera blu. Quindi l'acqua è pulita anche quest'anno, insomma? Sì, sì, è sempre stata pulita, a parte due o tre giorni, ma in un'estate può capitare, per via delle alghe, ma è stata sporchissima. Benissimo. Ti ringrazio Marco, ci risenteremo domani, buona giornata e buon lavoro, ecco. Grazie altrettanto, ciao. Ciao. Ora passiamo alla lettura dei giornali, come dicevo prima, a partire dal resto del carlino sulla pagina di Pesaro, vediamo la sintesi della prima pagina e vediamo che il titolo di apertura è dedicato alla sanità, ospedale, a case bruciate, conviene. Dopo vedremo perché, ma l'altra notizia importante, purtroppo è una notizia deludente, Fano, escluso dai ripescaggi, resta in serie D. È pronto il ricorso, insomma si cerca di agguantare in extremis un risultato che sta sfuggendo, insomma sta facendo acqua da tutte le parti. Le altre notizie, Green Pass, paure e proteste, manca ormai un solo giorno all'introduzione di questo documento e poi a Urbino torna la festa del Duca, omaggio a Raffaello, a Fano fuochi per il compleanno, fuochi artificiali per il compleanno, ma si incendia il tetto. E poi ancora Pesaro, in arrivo 11 milioni per il porto, serviranno a smaltire i fanghi, è una cassa di colmata e poi in un locale dell'entroterra ballano nella discoteca e quindi le autorità sono avvertite da un video che è stato postato sui social. Apriamo la pagina all'interno, vediamo subito le polemiche per quanto riguarda il Green Pass. Baristi e ristoratori smarriti sul Green Pass, è obbligatorio e io lavoro solo all'aperto, ci sono ancora molte indecisioni, pensate a un solo giorno dall'introduzione del documento, ancora ci sono casi controversi e gli operatori non sanno come comportarsi. Ci sono alcune dichiarazioni sui giornali questa mattina. Sara del Caffè Ducale, io ho tanto spazio fuori e agosto si sta bene, poi piano piano vedremo che cosa succede, ha dichiarato alla pasticceria Serafino, a Elisa, credo che toglieremo le sedute all'interno, da noi le colazioni si fanno più che altro al banco. Ancora Monica Mazzarella, ora bisogna chiedere il documento e troveremo resistenze, bisognerà mettere qualcuno alla porta e controllare. Insomma sono diverse reazioni. Pagliamo un'occhiata anche alla sostanza del provvedimento. Da domani, vediamo, il Green Pass sarà obbligatorio per entrare in molti luoghi al chiuso come bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi. Al momento pare non sia obbligatorio negli hotel, caos comunque prevedibile nei primi giorni. I problemi più grossi sono quelli legati ai controlli, sia perché i locali devono avere qualcuno che li faccia, sia perché tra la clientela c'è chi non vuole rivelare la propria identità e che invece emerge quando la app verifica il Green Pass. Insomma, tra privacy e tra necessità di mostrare che si è vaccinati, esiste insomma una grossa dicotomia. Palestre e sale scommesse, la paura, così rischiamo di perdere i clienti, ma non solo le sale scommesse, le palestre. Insomma, le palestre ovviamente sono necessarie soprattutto in estate per mantenere un buon fisico. E poi l'altra notizia, l'altra notizia importante è quella sulla sanità, abbiamo detto. Ospedale a Muraglia costa 30 milioni in più rispetto che a case bruciate e la Regione Marche sembra interizzata proprio a realizzare la nuova struttura a case bruciate. Qui abbiamo una fotografia del territorio e vediamo il luogo in cui dovrà essere realizzato il nuovo ospedale. Qui vediamo l'autostrada 14, qua si va verso Cattolica, qua si va verso Fano. Qui abbiamo uno svincolo, questa è la strada delle Regioni e questa è la statale 423. Insomma, questa è l'area scelta, un'area impianeggiante rispetto a quella di Muraglia che è in collina e quindi necessita di risorse inferiori rispetto alla prima. L'area comunque non necessita nemmeno di espropri, ma sono carenti gli spazi anche per i parcheggi, dice qui un trafiletto. Si possono realizzare posti auto a raso, però qui occorre una variante urbanistica e vedremo questa proposta come avanzerà nella programmazione della Regione. Questa invece è una notizia preoccupante. Vaccinato con doppio Sputnik, ma l'imprenditore non ce l'ha fatta. Fiorino Gregori, di 71 anni, aveva ricevuto nella scorsa primavera le due dosi a Mosca, ma è stato contagiato ugualmente dalla variante Delta. A luglio è rientrato in Italia, era finito in rianimazione con una polmonite fatale. La sua azienda era Lomag, con sede a Fanano. Lui è stato uno dei fondatori e per lavoro andava spesso all'est. E sono 26 i nuovi casi nella Regione. Maglia nera macerata con 68. Il tasso di incidenza di ogni 100.000 abitanti schizza al 62,8%. Insomma, non c'è da stare allegri. Una notizia invece confortante a Pesaro. L'ha annunciata l'assessore Baldelli. Per il porto arrivano 11 milioni. L'assessore regionale, destinati alla realizzazione delle casse di colmata per smaltire i fanghi. C'è fiducia anche sui tempi. Ebbene, per il 2022 saranno pronti i progetti. E nel 2023 si partirà con i bandi di gara, ha detto Baldelli. E poi c'è anche un'altra notizia. La cassa di colmata costituisce un accordo non solo per Pesaro, ma anche per smaltire i fanghi dello scalo di Fano, che cerca da tempo ormai disperatamente di trovare un sito per depositare i fanghi che vengono prelevati dal porto. E poi la notizia di cronaca. Pasticche Roll Royce per sballare. In manette un uomo che è stato condannato a due anni e nove mesi di carcere per aver commesso una rapina ai danni di un minorenne a gennaio 2020, su mezzo dell'Adriabus sulla tratta Pesaro-Morciano. Il ventenne aveva sottratto il portafoglio allo studente, sedicenne, dopo averlo minacciato e picchiato. Ma sullo stesso articolo abbiamo un altro caso di violenza casalinga, di violenza di un uomo contro una donna. Era un senegalese che è stato denunciato anche lui per violenze nei confronti della moglie. Un autocarro sbanda e spedisce nel fosso due automobili. È accaduto ieri mattina a fosso sei ore. Uno scenario spettacolare, ma per fortuna non si è verificato nessun ferito. Altro schianto a 200 metri più avanti per la fila causata dal primo. Quindi attenzione quando ci sono incidenti, in questo caso, che si formano file sull'Adriatica, occorre sempre moderare la velocità. E poi c'è una protesta, una protesta curiosa. Basta con i concerti all'alba al Parco Miralfiore. Se non smettono, vado io a svegliare il sindaco. È la protesta di un residente. Si chiama Claudio Palazzini. Iniziano a montare alle tre e mezza di notte. Ha dichiarato a quel punto diventa impossibile dormire. Giriamo ancora la pagina e vediamo che balli proibiti finiscono in un video denuncia in un locale a Vallefoglia. Centinaia di giovani hanno partecipato a una festa creando assembramenti. Poi poche mascherine e niente distante. Un cittadino ha inviato le immagini degli assembramenti alle forze dell'ordine, richiedendo controlli più serrati. Ciclismo in lutto. Canuti stroncato da un malore improvviso. Siamo sempre a Vallefoglia. È un corridore professionista. Partecipò anche al Giro d'Italia e al Tour de France. Lascia due figli. L'addio oggi a Morciòa. Carloni. Valorizzeremo i centri storici. Il vicepresidente della regione illustra la legge approvata per la tutela e difesa dei luoghi commerciali naturali. Meno burocrazia. E questo è importante. Meno burocrazia. Perché l'iniziativa privata ha bisogno di rapidità, di sveltezza nelle operazioni. E poi vediamo sulla pagina di Fano fuochi d'artificio e poi fiamme e caos. Erano stati esplosi per festeggiare un compleanno. È accaduto sul tetto dell'ex Hotel Roma. Proteste e insulti. I lapilli ardenti sono piovuti sui terrazzi del vicinato e addirittura nei piatti dei clienti del ristorante da Ciles. Dalla festa alle litigate in strada, la questione presto degenerata, fino ad arrivare ai cori razzisti contro i napoletani. È lo ritenimento di una donna martedì notte in Viale Dante all'Igheri all'incrocio con via Cesare Battisti in Sassoni. Una dichiarazione della segretaria provinciale del Partito Democratico Rosetta Fulvi. Fusione A, Z, Marche Multiservizi, centro-sinistra spaccato. Le divisioni sono sempre l'anticamera della sconfitta, dichiara la segretaria, la responsabile politica del Partito Democratico che in questo caso dibatte all'interno di se stesso la questione del futuro di Aset e Marche Multiservizi. E poi ancora Magliano, mattinata di bonifica in zona rossa. Si parla della bomba, tra virgolette, che è stata ritrovata nei giorni scorsi. Ieri era il giorno della bonifica, quindi delle grandi operazioni di evacuazione della popolazione residente, di chiusura del traffico, però tutto si è risolto in una bolla di sapone. Perché? Perché non era una bomba che poteva esplodere, ma era una semplice granata fumogena di fabbricazione inglese risalente della Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno ha fatto scattare le operazioni. Non è stato necessario farlo brillare da parte degli artificieri. È stato preso solo in carico da questi ultimi e consegnato all'esercito per le operazioni corrette di smaltimento. E poi i residenti sono stati fatti rientrare e il traffico è ripreso. Colli al Metauro, Corina si candida. Alle urne il 3 e il 4 ottobre prossimi, ho una certa esperienza e mi metto in gioco per cercare di dare risposte, ha dichiarato Candio Curina. E a Frate Rosa prende il via il prestigioso Santa Vittoria Festival, la rassegna di musica classica. Un'occasione per andare a visitare questo borgo dell'entroterra pesarese, famoso per attrazioni gastronomiche, ma anche per la bellezza del suo paesaggio. Open House, progetto di inclusione sociale. Qui torniamo a Fano, sulle pendici di Monte Giove. Si tratta di un'iniziativa a favore della disabilità mentale. Tiriamo ancora pagina Urbino. In arrivo una travolgente festa del Duca. La quarantesima edizione si annuncia di altissimo livello artistico, grazie alla collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e l'Accademia Raffaello. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico, dove vediamo che la prima pagina è dedicata al Green Pass a scuola. Ma i bus dicono i titoli. Che cosa facciamo? Presidi e insegnanti favorevoli alla certificazione. Però chiedono mezzi aggiuntivi e nuove assunzioni. Da domani va in vigore il nuovo decreto. Tutto quello che c'è da sapere per bar, ristoranti e palestre. Il ciclismo pesarese piange la morte di Patron Canuti e richiamo in prima pagina. E poi ancora festa della maturità, studenti in Croazia, quarantene per 16 ragazzi di Cagli. 11 evacuati, ma l'ordigno era solo un fumogeno sulla pagina di fa. E vediamo la situazione del Covid dai viaggi al tempo libero, con il Green Pass in tasca e attenti alle supermulte. E vediamo subito che cosa serve il Green Pass. Serve per accedere a bar e ristoranti, al chiuso e al tavolo, palestre, piscine, fiere, sagre, convegni, musei, parchi di divertimento, sale gioco, sale scommesse, casino, concorsi, centri termali, centri benessere, circoli culturali. Attenzione dunque perché da domani occorrerà obbligatoriamente esibire questo documento. Giriamo ora le pagine per ritrovare quelle di Pesaro e vediamo che si parla anche sul Corriere Adriatico delle Scogliere, progetti pronti per Levante e Sottomonte. L'assessore Belloni ora tendiamo i bandi della regione per intercettare i fondi. E' già stato effettuata un ripascimento da 170 mila euro per rinforzi dei massi. Ancora nuovo ospedale, presentati due siti, a case bruciate 30 milioni in meno rispetto a Moraglia. E poi il caso dei ragazzi che sono andati a passare le vacanze per festeggiare la maturità in Croazia, ma ritornano con un positivo e tutti sono in quarantena. Sono 16. Vaccinati in 15 rientrano dopo due giorni. Spiegamento di forze per portare a casa il contagiato. Candele sotto le stelle e c'è già chi si sfila. Ieri vertici in prefettura si attende all'ordinanza del sindaco, ma le regole non sono ancora chiare. Molti si dissociano dalla cena in spiaggia. Abbiamo per esempio qui una dichiarazione di un'operatrice che dice che la nostra spiaggia si dissocia dall'evento della Notte delle Candele. Questa la comunicazione è inviata al sindaco Ricci da Gioia a Marena in Baia a Flaminia. Sparacca di Gioia a Marena. Sparacca è il lume della concessione. Non è infatti chiaro come dovremo comportarci nonostante le dichiarazioni del sindaco. Ancora l'irrissa sul treno, un giovane accoltellato, botte e sangue, passeggeri terrorizzati. Ieri mattina alle 7 sul convoglio Riccione Pesaro l'aggressore scappa, il ferito se la cava. Una violenta lite questa scoppiata tra due gruppi di magrebini mentre il treno era in corsa, prima che qualcuno riuscisse a fermarli. E' spuntato anche un coltello che è andato a segno due volte. La vittima è un marocchino residente nel Pasere del Pesarese e vediamo come gli altri passeggeri sono rimasti allibiti da questa rissa che è montata molto molto rapidamente. Doppio sequestro di pastiche ed ecstasi, però non mancano. Ascisse e marijuana. Un arresto e due denunci della polizia. La metanfetamina dilaga soprattutto tra i giovanissimi. Sono state due le operazioni. Nella serata di venerdì scorso i poliziotti hanno effettuato una perquisizione sia a Talacchio che a Vallefoglia. E a Vallefoglia si dà l'addio al presidentissimo del ciclismo. Lo sport piange Canuti, morto nella sua casa di bottega a 69 anni, l'ex patron della società pesarese Enzo Canuti. Oggi alle 15 il funerale dell'inventore del Gran Premio Sagra delle Pesche si terrà a Morcioli. Sulla pagina di Urbino, Festa del Duca sarà una città-teatro. Raffaello Contemporaneo ha presentato il programma lungo quattro giorni, quindi ce n'è per tutti i gusti. Il sindaco Gambini non era scontata questa iniziativa, ma siamo riusciti a realizzarla. Crespini, grande l'impegno di tutti. A Fano ha tanto rumore per nulla o quasi. La bomba in realtà è un fumogeno. L'ordigno bellico riaffiorato a Magliano era senza esplosivo. Erano state evacuate 11 persone. A quel punto, quando si è verificata l'inconsistenza della pericolosità di questo ordigno, sono stati tolti blocchi stradali, disposti per evitare che il traffico si avvicinasse troppo al luogo dell'operazione e sono potuti rientrare gli abitanti di 11 case del circondario. Da milioni a miraggio, la rigenerazione urbana ora è un caso. Si parla del progetto Pinqua in questo articolo di Fondopagina. La Giunta aveva annunciato di aver ricevuto i finanziamenti governativi per gli interventi di rigenerazione urbana a Metauriglia e nei quartieri di San Lazzaro e Vallato. I Cinque Stelle ora smentiscono e dicono che questi fondi non ci sono. C'è anche un ribatti da parte della Giunta che dice che invece ci sono e arriveranno a passi, insomma, a tranche volta per volta. Green Pass servono risposte, dubbi e le perplessità per gli eventi e la Rocca Malatestiana, Arena BCC e Anfiteatro Rastat. Pugliani, che è responsabile della Rocca, eravamo organizzati in sicurezza. Bartolucci, invece, che è uno degli organizzatori degli eventi dell'Arena BCC e dell'Anfiteatro Rastat, dice vale la forma più della sostanza. Punto interrogativo perché poi ci sono ancora, come abbiamo detto prima, tante cose da chiarire. Sicità più dannosa del Covid. Terra assetata. Il punto sui danni del direttore della cooperativa agricola di Falcineto, Francesco Mei. Domenica scorsa c'è stata l'assemblea di questa cooperativa agricola, che è una delle più importanti della Valle del Metauro, ed è stato evidenziato come più del Covid, sì, che ha infierito ovviamente sull'organizzazione del lavoro e anche sulla disponibilità dei mezzi agricoli per effettuare i lavori dei campi, ma più della pandemia ha recato danni la siccità. Siccità che ha infierito soprattutto per i prodotti con semina primaverile. Articolo 32 Bartoli resta sostenitore. Il vicepresidente e fondatore si dimette per ragioni personali a Fossombrone. Si tratta del vicepresidente dell'impresa sociale cooperativa, articolo 32 Olus, con sede appunto nella città metaurense. Marco Bartoli ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio d'amministrazione per ragioni strettamente personali. Sulla Val Cesano, centro colpito dai piccioni e guano fa rima con guaio, quasi rima. San Costanzo bersagliata dai volatili, fallite al momento tutte le misure adottate. Continua dunque ad angustiare i residenti la presenza e l'accumulo del guano dei piccioni nelle vie del centro cittadino. E questo un po' in tutte le città dove ci sono soprattutto mercati che avrebbero bisogno di una situazione igienica sempre molto molto controllata e qualificata, in realtà i piccioni sguazzano dappertutto ed è difficile contenerli. Ancora vediamo la pagina di Senigallia sul Corriere Adriatico. Bar, ovviamente si parla del Summer Jamboree, bar e ristoranti benedicono il Summer. Jamboree un miracolo organizzativo. È il plauso del presidente di Confcommercio Bramucci. C'è l'incognita Green Pass anche per i jambori di Senigallia al Via domani. Per l'autunno resta in bilico panem nostrum. Metteremo in campo ogni sforzo e la dichiarazione. E poi non manca la notizia di cronaca purtroppo a Senigallia. Pagano la caparra ma la casa non c'è, ma non rinunciano alla vacanza. Una brutta sorpresa per una famiglia di Torino beffata. hanno pagato un anticipo di 440 euro di caparra, ma l'appartamento che avevano prenotato non c'è. E questo capita piuttosto spesso. Ora si cerca una sistemazione alternativa. E poi sempre a Senigallia sono stati imbrattati i manifesti del popolo dei no-vax, timori e contestazioni anche per il concerto di Povia in agenda il 17 agosto prossimo. Ed ora diamo subito un'occhiata alla notizia sportiva. Clamoroso. L'alma esclusa dai ripescaggi. La decisione del presidente della FIGC Gravina piomba come un fulmine al ciel sereno, ma la società Granata già studia il ricorso. Ebbene, che cosa è accaduto? E' accaduto che in Estremis, nel momento in cui si doveva decidere il ripescaggio della società Granata in serie C, si è verificato che la documentazione presentata non corrispondeva alle norme per il passaggio, non più che il passaggio, più che la permanenza in questa serie. Quali sono le motivazioni? Le motivazioni dell'esclusione vertono su tre punti, come riporta burocraticamente la nota della FIGC. Insomma, sembra che non si sia depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionisti l'originale della Fideiussione Mediolanum S.p.A. del 16 luglio. E poi non si è documentato il soddisfacimento del criterio relativo ai valori minimi di illuminazione verticale medio dell'impianto di illuminazione. Nonostante che questo sia stato realizzato pochissimo tempo fa, l'altro caso non ha documentato il soddisfacimento relativo alle sedute individuali per le tribune riservate agli ospiti. Con queste carenze sembra che l'alma sia destinata a restare in serie D. Ma vedremo che cosa accadrà con il ricorso. L'Avis, invece, ha disputato un match senza tifosi. Abbonamenti in dubbio. Regna anche qui un po' di confusione sulle aperture degli stadi, tra cui il Benelli. Amadori dichiara che non abbiamo ancora disposizioni e restiamo in attesa di avere chiarimenti. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento al TG di questa sera alle ore 20.30 e vi auguro buona giornata.